Chiaro che dovrò riprendere in mano un po' le redini della faccenda e devo dire che sognavo questo momento, quindi di ritornare magari a incavolarmi, a leggere le cose cattive sui social, però nei momenti tristi e bui sognavo di ritornare ad arrabbiarmi ancora, perché fa parte della vita di tutti i giorni. I risultati del tampone sono arrivati giovedì mattina. Il sindaco di Mortara, Marco Facchinotti, è ufficialmente guarito dal Covid-19. Una notizia che lo stesso primo cittadino accoglie con sollievo. Facchinotti tornerà in comune probabilmente lunedì e ha voluto ringraziare i membri della giunta che hanno continuato a lavorare durante l'emergenza, sottolineando poi le difficoltà economiche che le amministrazioni locali stanno affrontando in questo periodo. Questa vicenda va a inficiare in maniera pesante sui bilanci non solo di Mortara ma sui bilanci tutti i comuni e dove le risorse che non stanno arrivando ci mettono in seria preoccupazione. Perché è vero, abbiamo spostato pagamenti per i nostri cittadini, cercheremo anche di una scontistica, per esempio, ovviamente i bambini che non sono andati a scuola, non sono andati a messa, non sono andati all'asilo, chiaramente non pagheranno. Stavamo pensando anche di valutare per i negozi stati chiusi, sul discorso della Tari, per esempio, fare… quindi c'è un sacco di lavoro. Oltre a difendere l'operato della regione, che per Facchinotti ha fatto un lavoro eccellente, il sindaco ha voluto dedicare un pensiero anche alle tante vittime del virus, più di 11 mila sono in Lombardia. Ne usciremo, ecco, quindi perché non c'è niente di più importante che capisco la libertà ma soprattutto la salute. Chiaro che nel momento in cui, così ho passato questo momento, sicuramente non facile, sono di 13 giorni abbastanza difficili che comunque un piccolo strascico lo lasciano, anche a distanza di tempo e non potevo non pensare a tutte le persone che conoscevo o che ho conosciuto che purtroppo se ne sono andate senza neanche avere la possibilità di capire cosa stesse accadendo, quindi anche persone giovani, persone anche meno giovani, però… e questo fa veramente pensare al fatto che ci siamo trovati di fronte a una vera e propria bomba atomica che ci è cascata addosso.